Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Cari amici, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo di TV6. Nel corso di questo lunedì 27 giugno avremo tempo stabile su quasi tutta Italia, ad eccezione dell'arco alpino e il nord-ovest, dove arriverà qualche temporale tra tardo pomeriggio e le ore serali. Altrove, l'anticiclone subtropicale si rinforzerà ulteriormente e provocherà un ulteriore importante aumento delle temperature, le quali diverranno eccezionali nelle aree interne di quasi tutta la nostra penisola, soprattutto al sud. In Abruzzo un inizio di settimana bollente, con temperature massime tra i 32 e i 36, ma con qualche picco anche di 37-38 gradi nelle aree interne, a bassa quota tra Pescarese e il Terramano. Anche nelle aree più interne e anche in montagna farà molto caldo, salgono le minime fino a 24 gradi lungo le coste, leggermente più gradevole in piena notte negli aree interne, venti debolissimi o assenti, mari calmi. Grazie per l'attenzione e a tutti voi una buona giornata. Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni Realizziamo i tuoi sogni